Siamo nella collina materana, siamo giunti qui a Ersina, a pochi chilometri da Grassano, zona insieme ad altre località prestigiose della basicata del Suino Nero. Questa razza che sta gradatamente crescendo, sempre più interessante, naturalmente con un'attenta valorizzazione da parte di un'associazione che ne sta curando la crescita e naturalmente promuovendo il prodotto tipico, gli squisiti salumi. Siamo qui nell'azienda Magnante e prima di presentarvi il titolare parliamo con il presidente di questa associazione, l'istinese Signoriello. Buongiorno Signoriello. Buongiorno a lei. Allora siamo a pochi giorni dalla partenza di Roma, Signorello, per questa rassegna itineraria agroalimentare di Basilicata dove presenteremo il Suino Nero. Ma parliamo della vostra associazione del Suino Nero. Noi abbiamo recuperato una razza ormai quasi estinta, abbiamo preso in mano un progetto della regione Basilicata in strata collaborazione con l'Alsia e con la comunità montana Medio Basento. Siamo tuttora 15 aziende su tutto il territorio regionale, questa è una delle aziende appartenenti all'associazione. Abbiamo un progetto molto ambizioso, cioè quello di innanzitutto conservare la razza e nello stesso tempo cercare di chiudere tutta la filiera. Quindi autoproducendoci la materia prima per la razione alimentare e nello stesso tempo anche provvedere alla trasformazione del prodotto. Quindi avere un prodotto tipico e legato fortissimamente al territorio. Signorello, cosa chiedete ai nostri amministratori, alla regione Basilicata, alla provincia di Matera e di Potenza per poter crescere gradatamente con le vostre produzioni di questo interessante animale? Allora, abbiamo innanzitutto bisogno della parte istituzionale perché abbiamo bisogno di una guida attraverso l'emissione di alcuni bandi specifici che ci possono permettere di adeguare innanzitutto le aziende e nello stesso tempo di mantenere vivo questo progetto. Nello stesso tempo abbiamo anche bisogno di un'attività promozionale legata al prodotto trasformato. Infatti il suino nero parteciperà alla rassegna itineraria agroalimentare di Basilicata in programma a Roma e a Firenze e naturalmente oltre che squisiti salumi di questo animale è un settore veramente in crescita, una delle novità nel settore del suinicolo lucano. Ed ora partiamo al padrone di casa, Angelo Magnante, anche lui insieme all'amico signoriello produttore di questa razza in crescita. Da quanto tempo Magnante ha iniziato a produrre questa razza animale? Beh è un anno che siamo partiti, siamo partiti l'anno scorso con sei esemplari, adesso contiamo una cinquantina di animali, considerato che già abbiamo fatto le prime macellazioni. Quanti animali hai nella tua azienda? Sono, adesso sono una cinquantina di animali piccoli, appena svezzati e siamo arrivati a una decina di scrofe. Perfetto, quindi in costante crescita. In costante crescita, adesso vediamo un attimino come si evolveranno i fatti, così ci programmiamo le future nascite in base pure alla richiesta e al prodotto che dovremmo andare a lavorare e poi a consegnare. Quindi a Roma i ristoratori romani, i titolari di associazioni turistiche non gastronomiche, soprattutto l'associazione dei Lucani di Roma, potranno degustare anche un prodotto trasformato che sarà servito nell'occasione del mitico romano? Certo, abbiamo appena ultimato la prima trasformazione, il prodotto è pronto, l'abbiamo già ritirato, è un prodotto ottimo e siamo imbazienti di vedere il risultato, se il prodotto piace. O meno, ma sicuramente piace. Mi piacerà perché sono prodotti tipici e il salame come lo facevano tanti anni fa. Grazie gentilissimo, Angio Magnante. Signorello ci spostiamo sempre a Ersina per andarlo a degustare, invitare gli amici, in questa gli diamo la novità con un amico di vecchia data che è sempre attivo nell'ambito delle promozioni, della ristorazione, delle attività. Parliamo di Achille Furioso, allora parliamo del suino nero però tutti gli amici dicono, ma dove posso andarlo a degustare? Certo, noi parallelamente a questo progetto di allevamento dell'antico suino lucano abbiamo offerto così la possibilità di poterlo degustare presso la braceria, vineria Fuoco di Vino di Ersina, un'attività che abbiamo iniziato qualche mese fa che ci sta dando degli ottimi risultati proprio per l'apprezzamento non solo delle carni che sono molto particolari, ma anche del lavoro che l'associazione e gli allevatori del territorio producono. Da questo punto di vista anche io mi associo all'accordato appello del presidente Giuseppe Signoriello, ci vorrebbe un'attività di promozione coadiuata anche con le istituzioni perché questo prodotto può diventare una vera risorsa anche di occupazione, oltre che di promozione del prodotto e del nostro territorio. La nostra redazione sarà lieta di venirla a trovare al più presto nella sua braceria a Ersina, intanto prima di questo tra pochi giorni sarà presente, potranno degustare le specialità del Signore Lucano nel meeting romano nel pieno centro di Roma. Certo, da questo punto di vista stiamo avendo anche rapporti con altri ristoratori che stanno apprezzando questo prodotto, ripeto è un prodotto particolare per cui vi aspettiamo presso la nostra braceria così potrete degustarlo. E da questo fantastico scenario della collina materana da Ersina vi invitiamo a scoprire e a seguire l'evoluzione di questa antica razza, il suino lucano e vi invitiamo alla nostra manifestazione itineraria agroalimentare di Basilicata il 3 aprile a Roma.